Grande e grosso e fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho rintracciato. Eccoti. Mi scusi. Merda, si sta muovendo. No, no, no. Siamo d'accordo. Grazie a tutti questi soldi solo per fare uno scherzo al telefono. DGPS, eh? Le dirò delle serrature. È di suo figlio. Ma questo non è affatto giusto. È questo il punto. Ho pagato questo stronzo da spaventare Nicky. Chi pagherebbe per una cosa simile?